Dopo la chiusura dei confini da parte della Slovenia, tutti all'assalto delle tessere carburante. Sono 838 le richieste effettuate dal 26 ottobre scorso. Dopo settimane, commenta il Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, in cui la media delle operazioni senza appuntamento allo sportello carburante regionale di Trieste non superava le 50-60 unità, c'è stata un'impennata di richieste e file anche al di fuori dello stabile camerale, proprio perché nel rispetto delle norme in vigore in questa fase emergenziale è consentito l'accesso contemporaneo a un ridotto numero di utenti. Delle 838 operazioni, 165 sono state registrate solo stamattina. La chiusura dei confini da parte della Slovenia ha generato una richiesta immediata di tessere carburanti o variazioni delle stesse, ormai inattive, per un prolungato inutilizzo. L'ente camerale ha quindi rinforzato sia gli sportelli che la vigilanza all'ingresso, con la misurazione della temperatura corporea e la compilazione dell'autocertificazione sanitaria. L'operatività degli sportelli prosegue ben oltre l'orario di apertura, fino a esaurimento dei numeri di arrivo emessi fino alle ore 11.30. I residenti delle circolazioni territoriali dell'ex provincia di Trieste e Gorizia possono presentare anche nella modalità online le richieste di identificativi, tessere a microchip, per l'acquisto di carburanti regionali nei seguenti casi. Nuovo rilascio per persone che non hanno mai richiesto prima la tessera regionale, rilascio di tessera aggiuntiva a seguito di un acquisto di nuovo veicolo intestato o cointestato a persona che già era in possesso di tessere regionali per mezzi circolanti di cui mantiene la titolarità o la contitolarità, e sostituzione di tessere a seguito di smarrimento o furto.